Dunque, spero di riuscire a spiegarmi. È vero, la batteria mi annoia. Io, da ragazzino, prima ancora di iniziare a suonare in pubblico, suonavo in casa. Mio papà mi regalò un rullante e un paio di spazzole. E' anche per questo motivo che il mio imprinting batteristico è stato sostanzialmente con le spazzole. Ascoltavo i dischi di Shelly Mann, ma ascoltavo anche i dischi di Louis Armstrong. E i dischi della band di mio papà e di mio zio, che si chiamava Milan College Jazz Society, che è stata una delle prime jazz band in Italia. Stiamo parlando del 51. Io sono sempre stato innamorato della batteria, però in casa avevo anche il contrabbasso, quindi spesso mi ritrovavo a suonare il contrabbasso di mio papà sui dischi. Poi ho studiato in conservatorio, prima ho studiato con Carlo Sola. Dopodiché sono entrato nel corso di percussioni classiche di Franco Campioni in conservatorio, per cui ho studiato timpani, vibrafono, il pianoforte, canto corale. Sono stati tutti segnali che mi hanno portato a vivere la mia vita di batterista, innamorato della batteria, ma con un orecchio sempre attento su quello che succedeva al di fuori della batteria. La batteria oggi in maturità, maturità anagrafica più che psicologica, la batteria mi annoia perché è uno strumento che a mio modo conosco bene, ho sfruttato in tutti i modi e continuo a sfruttarlo professionalmente, chiaramente. Mi chiamano in quanto batterista, non certo come compositore o bassista o pianista, ci mancherebbe altro. È il mio strumento, è la mia vita, voglio andare oltre. Sono un attento fruitore di Facebook, per cui guardo video tutti i giorni, i video dei miei colleghi, i video delle star internazionali, i video dei giovani, dei talenti, dei virtuosi. Tuttavia, sempre di più mi incuriosiscono i batteristi che fanno meno, dal punto di vista tecnico e meccanico, ma dai quali recepisco una grande idea musicale, che fa sì che la batteria sia un complemento di un gruppo, e quindi una parte essenziale della musica che viene suonata. Con i miei allievi tutto ciò prende una forma didattica, ovvero sono cosciente di non sapere eseguire almeno il 70% di quello che io indico tecnicamente ai miei allievi. Non riesco ad eseguirlo nella pratica, ma mentalmente io costruisco delle formule per le quali so che la mia esperienza gezzistica e batteristica in generale, veicolata da una tecnica che ho acquisito in gioventù, ma soprattutto veicolata da tanta musica, da tanta musica che ho suonato in tutti i contesti, dal gesto tradizionale, dalle marching band, ai tri, ai gruppi free, alla big band, ai gruppi Enzo Iannacci, su tutti, ho suonato 20 anni con Enzo Iannacci e tuttora continuo a suonare con Paolo Iannacci. Enzo voleva al suo fianco, perlomeno da quando ha chiamato me alla batteria, stiamo parlando del 1994, voleva con sé dei musicisti che avessero il linguaggio jazz, quindi io mi sono ritrovato a dover imparare una disciplina d'accompagnamento molto vicina al pop, pur mantenendo la creatività e le dinamiche del gezzista. Questa cosa si è poi sviluppata con il Devil Quarter di Paolo Freso, gruppo molto ampio dal punto di vista del range stilistico, è un gruppo jazz, ma è un gruppo jazz che strizza l'occhio al pop, al jazz rock. Da due anni, quindi dal 2016, abbiamo questo gruppo che ha ideato Mauro Pagani questo gruppo con Massimo Ragneri, insieme a Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli e Riccardo Fioravanti. È un gruppo di jazzisti, sebbene Massimo Ragneri non sia per nulla un cantante jazz. Massimo Ragneri è un leone sul palcoscenico, perché è un cantante, è un attore, è un interprete incredibile. con questo gruppo suoniamo musica napoletana, rielavorata in chiave jazzistica. Tutte queste esperienze sono servite per ampliare la mia conoscenza stilistica e batteristica parallela al jazz. per cui se io faccio un escursus della mia carriera dall'inizio a oggi, dalle marching band ai gruppi New Orleans, ai gruppi Dixile, fino ad arrivare a Enzo Iannacci, Paolo Fresu e Massimo Ragneri, ho fatto un percorso enorme che mi ha permesso di classificare batteristicamente tutto ciò di cui necessita la musica che vado a suonare. Quindi ho immagazzinato una serie di parametri meccanici di lettura, di indipendenza, di coordinazione e di creatività che hanno come base il jazz, lo swing, lo slang jazzistico, quindi lo slang creativo. che si è vestito di pop, di jazz rock. Quindi didatticamente il mio non essere in grado di affrontare meccanicamente la maggior parte degli studi che faccio fare ai miei allievi è comunque ben chiaro in testa, come se avessi delle formule algebriche, delle formule matematiche e delle formule strutturali meccanicamente che portano a concepire lo studio della batteria in una veste molto molto ampia. in questo senso io ritengo di essere molto attivo e molto veloce nel procedere su un percorso piuttosto che un altro piuttosto che un altro ancora con i miei allievi. Ho tutto ben chiaro in testa e non so se sono un bravo insegnante, so che nel mio mondo musicale non ho limiti per proporre a un singolo allievo diverse soluzioni per migliorarsi dal punto di vista meccanico, quindi tecnico, ma anche musicale. La noia, tra virgolette, che mi procura il mondo batteristico oggi è che sulla bilancia ascolto molti batteristi virtuosi dal punto di vista strumentale ma poco ricettivi dal punto di vista musicale. Ecco perché io vado alla ricerca o meglio, mi colpiscono molto di più batteristi, giovani o meno giovani, famosi o talenti ancora da scoprire che suonano la batteria in funzione del gruppo e dello stile in cui stanno suonando. Mi diverte molto ascoltare e vedere i video dei grandi virtuosi che fanno delle cose inarrivabili ma non provo nessuno stimolo ad avvicinarmi a quel mondo batteristico. Non lo provavo da giovane men che meno lo provo oggi. Ribadisco che la mia non è presunzione, è una risposta sincera a come vivo io la batteria da sempre e a maggior ragione oggi che ho le idee ben chiare riguardo ai miei limiti, ai miei pregi e ai miei difetti e al fatto stesso che quando qualche musicista con il quale non suono abitualmente mi cerca e mi chiama per un lavoro, prima di tutto voglio sapere dettagliatamente qual è lo stile che mi viene proposto. Poiché se non sono certo di essere a mio agio e di poter dare il meglio di me in quel contesto, rifiuto. Vivo quindi la condizione di batterista oggi, dopo qualche decennio di attività con grande serenità riguardo appunto come ho detto prima riguardo ai miei limiti ma anche alle garanzie che io posso dare come musicista. Ciò non toglie che il mondo della batteria è magico, infinito e affascinante proprio perché è uno strumento che non ha limiti dal punto di vista virtuosistico e interpretativo. Mi affascina quindi il godermi un concerto di un batterista che esegue dei virtuosismi incredibili ma in quel caso il mio cervello, i miei occhi e le mie orecchie sono concentrate solo su una visuale ristretta allo strumento. Viceversa gli stimoli musicali che mi entusiasmano sono quelli nei quali il batterista potrebbe anche suonare poche note, poche cose ma assolutamente perfette nell'ambito musicale in cui è chiamato a esibirsi. In conclusione per rispondere brevemente alla domanda iniziale la batteria mi annoia mi annoia il mondo batteristico avulso dal contesto musicale. Talvolta noi batteristi suoniamo esibendo il nostro sapere tecnico e virtuosistico ma con le orecchie tappate senza renderci conto che potremmo suonare talvolta dieci volte meno con un'efficacia dieci volte maggiore. La batteria secondo me bisogna suonarla principalmente con le orecchie non con le mani.